Si chiamano Ruby McGrath e Susie Hopley Ruby ha 32 anni, Susie ne ha 33 Hanno consumato un pasto, una pranzo, una cena da 56 sterline con i figli A Swinton ci troviamo in Inghilterra Eppure però costoro non hanno pagato Infatti sono andate via senza pagare neanche una sterlina La titolare si accorta di tutto A riprese il video che è giunto sul web E' diventato virale Le donne si giustificano dicendo La gente ci odia ma c'era dietro un buon motivo Tra le gambe di sorveglianza infatti hanno ripreso le donne Che, diciamo così, dopo che si è accorto non hanno pagato Però si sono difese da tutte quelle accuse forti nei loro confronti Accuse che però, no, accuse scusa Giustificano che però non hanno letto Non vi dico che si tratta, c'è caso un web Iscrivetevi, commentate Ci vado a me dando un anno di video di video